Gli speleologi del centro appenninico ricerche sotterranee in azione questa mattina chiede per un nuovo sopralluogo nel fitto reticolato di cunicoli della vecchia cava di Arenaria nel sottosuolo del centro cittadino. Il sopralluogo, lo ricordiamo, è stato disposto dall'amministrazione comunale di Chieti per accertare le cause che hanno determinato l'apertura della voragine in via Signo Aereo nei pressi del grande albergo Abruzzo. Certo è un'operazione preziosa quella che fanno perché loro oggi sono scesi giù in squadra, c'è anche un operaio del comune con loro presenti e ispezioneranno i cavedi che si trovano a 19 metri di profondità e ci sono delle porzioni trattate con un'opera pubblica fatte alcuni anni fa per il dissesto della collina Tiatina e verificheranno se i coni di frana che si trovano già su alcuni cunicoli sono correlati ad azione di frane superiori. Lavoragine larga 4 metri e profonda 5 è stata richiusa dagli operai del comune per consentire il transito delle sole automobili. Permane infatti il divieto assoluto di transito dei mezzi pesanti, bus compresi. Gli speleologi hanno perlustrato minuziosamente le gallerie situate ad una profondità di 19 metri, le telecamere del Tg8 hanno ripreso le suggestive immagini, le gallerie sottostanti monitorate minuziosamente hanno sottolineato Marta Di Biase ed Enrico Orsini della Cars si presentano in buono stato e non si segnalano punti di cedimento di collasso strutturale. Abbiamo trovato una situazione molto tranquilla, abbiamo fatto un confronto con la planimetria che avevamo fatta grazie al laser scanner di un paio di anni fa ed è tutto quanto nella norma. Logicamente dobbiamo far vedere le fotografie e qualche dettaglio al geologo in maniera tale che lui riuscirà a dirci con esattezza se c'è qualche pericolo oppure no. Le gallerie sotterranee risalgono a fine Ottocento quando gli operai dell'epoca per realizzare gli intonaci si approvvigionavano gratuitamente della preziosa arenaria. Le gallerie che si estendono per un centinaio di metri anche sotto l'edificio del Genio Civile sono state monitorate con il laser scanner effettuato dal geometra Antonio Natelli del Cars.